Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, è terminata da pochissimi istanti la partita a Bergamo e ragazzi credetemi, mi dispiace tantissimo, proprio tantissimo per la Salernitana. Io credo che oggi la Salernitana meritasse di vincere e io spero vivamente che la Salernitana si possa salvare, perché ha un allenatore che ha due palle grosse così e ci mette un cuore incredibile e anche oggi si è visto questo in campo, si è visto una Salernitana a pratti superiore all'Atalanta. Poi se andiamo a vedere, probabilmente tra prima e secondo tempo, probabilmente il pari è anche forse il risultato più giusto, ma la Salernitana ha rischiato di andare più volte sul doppio vantaggio, quindi io credo che sia stata un po' una beffa questo pareggio proprio a fine partita, però comunque sia se uscire con un punto da Bergamo per la Salernitana è sicuramente un ottimo affare e secondo me tra le due quella che si deve ramanicare di più è senza dubbio l'Atalanta, perché appunto la Salernitana uscire da Bergamo con un punto, nonostante mai mancasse poco alla fine, è comunque un punto importante e un punto guadagnato. L'Atalanta ne perde due invece e l'Atalanta che ha pari punti con la Fiorentina, ha davanti a sé Roma-Lazio con tre punti di distacco, sono punti che non doveva perdere invece che ha perso, però io ve lo giuro ma mi dispiace proprio tanto, ma veramente, veramente tanto per la Salernitana. Io continuo a dirlo, secondo me la Salernitana ha qualche giocatore interessante ed è una squadra totalmente diversa dalla squadra che abbiamo visto prima e ragazzi c'è una squadra che mette sotto comunque l'Atalanta dal punto di vista del centrocampo, da farne solo che i complimenti, stanno mettendo un cuore, una personalità, una grinta, una cattiveria incredibile, incredibile. E io sono veramente curioso di vedere cosa succederà nelle prossime partite, perché adesso è vero che la Salernitana ha due punti meno del Cagliari, verissimo, scusatemi, però ha una partita da recuperare e adesso giocherà contro il Venezia, contro il Cagliari, contro l'Empoli e contro l'Udinese e di queste quattro partite Tre le avrà in casa e sappiamo che lo stadio della Salernitana, i tifosi della Salernitana danno una bella spinta, quindi io sono veramente curioso di vedere cosa succederà e sono convinto che se dovessero continuare a giocare così, di queste quattro partite per me, in queste quattro partite per me faranno più punti di Venezia e Cagliari. Però vedremo, se lo giocheranno tutto nello scontro di Re, nelle due prossime partite, scontro di rete con Venezia e scontro di rete soprattutto con Cagliari. Io penso che è la squadra che se lo merita di più di salvarsi, se lo merita secondo me più del Venezia, se lo merita di più del Genua e se lo merita molto di più del Cagliari. È vero che il Genua aveva fatto qualcosina, però secondo me comunque troppo poco per salvarsi, il Venezia, già solo per aver cacciato l'allenatore, a mio modestissimo parere, non merita di salvarsi e il Cagliari è che è troppo poco. Quindi io veramente spero una Salernitana e voglio ribadire una cosa, questo campionato viene sempre un po' tra virgolette schifato anche sui social, di qua, di là. Io continuo a dire che questo è stato un campionato divertente, non magari tanto per noi uventini di per sé, però è un campionato divertente perché comunque se andiamo a guardare, ho la classifica qui davanti a me, se andiamo a guardare qualsiasi zona praticamente della classifica, c'è una lotta. La lotta a Scudetto, c'è la lotta all'Europa, c'è la lotta a retrocessione che vede implicate più squadre, quindi è un bel campionato, è veramente secondo me un bel campionato. E lo dico ancora una volta, io spero che la Salernitana si salvi e se dovesse farlo, io mi auguro che poi a Nicola venga data la possibilità di allenare la squadra per tutta la stagione. Io penso che sia un allenatore molto sottovalutato, molto, molto, molto sottovalutato. E per carità non stiamo parlando di Ferguson, ragazzi, ci mancherebbe altro, però è un allenatore secondo me sottovalutato e lo sta dimostrando per l'ennesima volta. Lo sta dimostrando per l'ennesima volta. E che dire, l'Atalanta invece, ragazzi, male. Bene, nel senso, non è sicuramente l'Atalanta di qualche mese fa, non è lo Zapata di qualche mese fa. Io la vedo meno squadra di come lo era prima e mi sembra una squadra che in questo momento si sta aggrappando un po' ai singoli. Una volta la salva Kupminers, una volta la salva Malinowski, un'altra volta magari la salva Muriel. Però non mi sembra più quel gioco corale che aveva prima. Ed è obiettivamente un peccato, perché comunque era sempre divertente guardare una partita della Dea. Però, secondo me, ragazzi, ci sta anche avere un po' una flessione dopo comunque alcune stagioni. Io penso che se l'Atalanta dovesse qualificarsi per l'Europa comunque sarebbe un ottimo risultato. Ecco, mettiamola così. Sicuramente nella sua stagione aver perso Muriel e Zapata ha influito. Poi Ilicic ha influito sicuramente. Però questo è, ragazzi. Che dire, che dire. Io veramente sono troppo curioso di vedere come va a finire per la saliera di Tana. In questo momento hanno un tifoso in più. E ho sperato, ho sperato, vi dico la verità, che venisse annullato il gol a Palsalic. Perché aveva proprio l'odore della beffa. Poi addirittura negli ultimi istanti ho anche avuto, diciamo, quasi la paura della beffa assoluta. Che magari poi nei minuti di recupero l'Atalanta riuscisse a trovare il colpo vincente del K.A.O. E quello sarebbe stato veramente troppo. Per me, ripeto, la Salernitana oggi avrebbe meritato. Va bene anche un pari. Chi l'avrebbe mai detto, ragazzi, se due mesi fa ci avessero detto, o tre mesi fa, ci avessero detto che la Salernitana sarebbe andata a Bergamo a poche giornate dalla fine e sarebbe stata in vantaggio per quasi 90 minuti, probabilmente le avremmo reso in faccia. Invece l'ha fatto e merita e merita i giusti riconoscimenti, i giusti complimenti. E spero di iniziare anche a sentire qualche critica, invece per l'Atalanta e per Gasperini. Perché negli ultimi anni Gasperini è sempre stato elogiato troppo. A me personalmente non è un allenatore che piace più di tanto. Non mi piace il suo modo di comunicare. Non è un allenatore che mi piace proprio in generale. Per me è un allenatore da squadra media e niente di più, per me personalmente. Eppure è stato definito maestro del calcio, di qua, di là. E sono delle robe che mi danno fastidio. Perché poi ci permettiamo di, anzi si permettono di magari insultare allenatori che vincono sei scudetti e fanno due finali di Champions e vincono anche delle Coppa Italia e si sente dire che è un incompetente o incapace. Poi invece parliamo di maestro di calcio quando parliamo di un allenatore come Gasperini. Ecco, io penso che ognuno debba mantenere il proprio livello. Ha fatto bene con il Genoa, sta facendo bene con l'Atalanta in questi anni. Però è anche giusto che si inizi anche a criticare quando merita. Detto ciò, ragazzi, io vi mando un forte abbraccio. Mi invito a iscrivere al canale, attivate le notifiche, rifondete il verbo. E ragazzi ci vediamo molto molto presto. Ciao. Forza Salernitana. Dai, dai. Ciao ragazzi.